Comunque Rossoblu e Granata hanno tentato con tanta buona volontà di giocare, a volte ci sono riusciti, a volte no. Il Cagliari ha osato di più, alla fine è stato premiato oppure forse è stato più fortunato perché prima del gol che è arrivato a 11 minuti della fine e che fra poco vedremo, i Granata avevano colpito un palo con Pulici. Torino schierato a due punte da Giacomini, ma Torino che stasera con molta sfortuna è all'ultimo posto in classifica. Vediamo il gol di Osellame, 34esimo della ripresa, fa tutto il giocatore del Cagliari che rientrava dopo due mesi di assenza. Osellame è sostituito dal 46esimo al primo minuto della ripresa, Goretti riceve la palla da Marchetti, stringe verso il centro, c'è una finta di Piras, un lungo triangolo con Quagliozzi e Osellame si presenta davanti a Terraneo, lo batte, dirà lui stesso con molta onestà, ho colpito male la palla, l'ho colpita col Polpaccio, comunque è un gol che vale due punti e che permette al Cagliari di arrivare a metà della classifica con una vittoria. Da Cagliari è concluso.